L'importanza del dialogo alla base di possibili alleanze. Si lavorano c'era inferiore per capire se vi siano affinità di intenti tali da portare a possibili unità in vista delle prossime elezioni amministrative. Attiva su tale fronte azione coordinata in città dal consigliere comunale Gianfranco Trotta che commenta ai nostri microfoni anche il quadro nazionale del partito. Noi sul territorio siamo organizzati, questo lo siamo già da un anno, nel senso che azione, mi permette di dire, è uno dei partiti più attivi sul territorio locale. Per quanto riguarda invece le prossime amministrative io ritengo che bisogna dialogare chiaramente con tutti senza preclusioni di sorte ma con una propria idea. Noi siamo pronti chiaramente a fare la nostra parte, a scendere in campo e perché no anche a recitare un ruolo da protagonisti. La battaglia importante adesso se parliamo a livello nazionale è quella su Roma in cui il nostro leader Carlo Calenda è impegnato nella candidatura a sindaco. Tra l'altro l'unico che l'ha fatto con un programma serio dall'inizio è che sta effettivamente girando i territori. Ecco questa è una cosa che secondo me mutuando anche il modello Calenda è una cosa che secondo me deve essere fatta anche nel nostro territorio laddove assistiamo spesso all'abbandono totale delle periferie in alcune fasi salvo poi ricordarsene in campagne elettorali. Io credo che invece bisognerebbe dialogare molto di più con i territori, farlo in maniera costante, coerente e cercare di trovare quantomeno di ascoltare per trovare delle risposte a quelle che sono le loro esigenze partendo dalle periferie. C'è poi anche il momento importante che abbiamo a Salerno in cui azione chiaramente si sta organizzando insieme ad altre forze politiche per portare una proposta nuova alla propria città.